Roma, 86 avanti Cristo. Gaio Mario, lo zio di Cesare e il suo collega nel consolato Lucio Cornelio Cilna si recano a casa del padre di Cesare per proporre la nomina del giovane Gaio Giulio a Flamen di Alice, una carica molto prestigiosa che comportava però una serie di noiosi impedimenti tra i quali quello di non cavalcare. Cesare purtroppo dà prova di essere un ottimo cavaliere anche piuttosto spericolato. Aspice pater guarda padre esclama rivolto al padre manus post tergum jungo stringo le mani dietro la schiena. Il padre commenta tam rapide equitat cavalca così velocemente ut indiscrimen vitam suam ad ducat che ut mette a rischio indiscrimen ad ducat vitam suam la sua vita da mettere in pericolo la sua vita. Buon sangue non mente cum eram juvenis quando ero giovane ricorda infatti Mario ego quoque tam rapide equitabam anch'io cavalcavo così velocemente ut quondam indiscrimen vitam meam ad ducat che una volta quondam indiscrimen vitam meam ad ducat rischiai la mia vita solo una volta però come si addice a un generale. At eram tam abilis ma ero così abile precisa infatti Mario ut semel ceciderim che caddi ceciderim una sola volta semel il padre di cesare richiama il figlio e lo invita a scendere da cavallo per conoscere cinna il futuro suocero cai caio uc veni vieni qui cesare ha appena preso dal padre la notizia che dovrà sposare la figlia di cinna per diventare flamen di alis il ragazzo è così felice che non vede l'ora di tornare a cavalcare flamen di alis flamen di alis tam letus nuntius fuit fu una notizia nuntius fuit tam letus così lieta ut nunc statim ad ecum revertam che adesso ut nunc statim subito ad ecum revertam torno revertam al cavallo torno a cavalcare che è lo stato Grazie a tutti, ragazzi.